Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Servizio Pastorale. Spero dopo la condividerete a tutti su WhatsApp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Servizio Pastorale perché bisogna elogiare le diocesi per il loro servizio pastorale. Tramite parroci, suore, educatori e laici si apprestano a dare ai giovani quell'insegnamento di fede che possa far diventare loro dei fautori per la prossima società cattolica. Dare a loro i consigli che servono per osservare le giuste norme e regole. Il Servizio Pastorale allarga il Vangelo a tutta l'umanità e lo mette in pratica. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Servizio Pastorale. Dobbiamo elogiare le diocesi per il loro servizio pastorale e tramite parroci, suore ed educatori ai giovani si appresta a donare fede. Dobbiamo elogiare i fautori della buona società cattolica che offrono il tempo e i consigli per ogni giovane che osserva. Il Servizio Pastorale allarga il Vangelo, lo spiega e realizza praticamente e con impegno assiduo, franco e forte zelo si può costruire una società esaltante. Il Servizio Pastorale è utile per civilizzare la società, offre un dono saggio e umile per chi ha fede e speranza nella carità. Grazie, spero la condividerete. Arrivederci. Grazie a tutti.